ecco vai vai scendola questo è il video vai scendola guarda come mi ha guzzato vedi qua bella vai lì lina vai lina ehi di qua di qua confermaci nel tuo nome perché tutti i cristiani ascoltino e apprezzino la parola del Papa come a Gerusalemme ben accorta la parola di Pietro regale confermaci nel tuo nome perché il privato del suo nome poterice che è considerato il servizio di autorità che è il suo e la tecnic vediamo confermaci nel tuo nome poterice grazie a tutti